Numeri da record per l'estate a Barzio. Il centro turistico vassassinese ha registrato moltissime presenze quest'anno anche grazie alle numerose iniziative promosse e alla possibilità, forse solo per qualche giorno, di staccare dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Il relax in Vassassi è assicurato. A riprova di ciò un record che spicca su tutti. Barzio anche quest'anno registra il maggior numero di prestiti di libri rispetto al numero di abitanti, oltre 5.200. A certificare il successo dell'estate barzese altri numeri forniti dal primo cittadino Andrea Ferrari. L'ufficio turistico comunale di piazza Garibaldi, spiega il sindaco, da venerdì 1 luglio a domenica 2 settembre ha fornito informazioni a 1.938 turisti. La settimana con il maggior numero di richieste è stata quella dal 20 al 26 agosto con 310 utenti. I giorni con il maggior numero di informazioni fornite sono stati invece venerdì 17 e sabato 25 agosto con oltre 50 turisti giornalieri. I parcheggi a pagamento nelle vie del paese hanno erogato oltre 24.500 ore di sosta. La settimana con il maggior numero di ore erogate è stata quella dal 20 al 26 agosto. Per avere un'idea delle presenze a Barzio ora ci sono anche le nuove tecnologie. Il servizio wifi gratuito attivo in centro paese, conclude Ferrari, ha avuto dal 1 luglio al 2 settembre quasi 4.000 connessioni. Altri dati interessanti, l'applicazione maggiormente utilizzata durante le connessioni è stata il social network Facebook. I dispositivi utilizzati di più avevano un sistema operativo Apple.